L'opportunità per l'economia emiliano-romagnola, ma non solo, l'economia nazionale con la fiera di Bologna, il SAIE, che comincia oggi. Invece noi andiamo nei sotterranei di Bologna con Silvia Gianni, che ho già presentato. Silvia, quanto è affascinante conoscere Bologna attraverso i canali che spesso sono interrati? Sicuramente è molto affascinante perché vedere Bologna da sotto dà una visione di Bologna insolita, misteriosa. Quindi è una grande opportunità per esplorare una Bologna inedita. Anche per me, che sono spesso nei sotterranei dei canali, è sempre una sorpresa attraversarli da sotto. Spieghiamo perché è possibile farlo in questo periodo, nella seconda metà di ottobre. Allora, questo è possibile perché, come di consuetudine, il Consorzio Canali di Bologna, nella seconda metà di ottobre ogni anno, praticamente mette in secca i canali, cioè toglie l'alimentazione e lo scorrere dei canali, e questo appunto ci permette di portare delle persone in visita nei canali sotterranei. Questa secca è utile a noi per avviare dei lavori di manutenzione, per fare delle ispezioni e controllare e monitorare lo stato di salute delle infrastrutture idrauliche e della città, e quindi è un momento dedicato sia a una funzione appunto più della manutenzione, ma anche appunto per valorizzare i canali cittadini. E questo appunto è il momento che di solito, è l'unico momento in cui è possibile accompagnare i turisti bolognesi lungo l'alvio del canale di Reno. Infatti questo ti volevo chiedere, stiamo facendo vedere alcune immagini anche dei canali, delle aree che avete anche negli anni passati, noi ci siamo interessati spesso negli anni passati, giusto ieri c'era la conferenza stampa di presentazione, eravamo presenti, il nostro servizio è andato nel telegiornale. Ecco, chi sono, quali sono le famiglie, le persone che vengono a visitare la Bologna sotterranea misteriosa dell'acqua, perché di questo si tratta? C'è un target di pubblico abbastanza ampio, solitamente ci sono giovani o famiglie con i bambini, infatti da quest'anno c'è la novità che possono accedere anche i bambini che hanno compiuto i 9 anni, dai 9 anni in su, invece l'anno scorso era dagli 11, quindi siamo andati un po' più incontro alle famiglie e quindi c'è un pubblico abbastanza vasto, a partire dai più giovani, da famiglie, ma anche da persone più adulte che comunque sono interessati a scoprire questo lato inedito della città. Oltre ai bolognesi comunque c'è un forte interesse anche da parte degli altri turisti che vengono anche da tutta la regione Emilia Romagna, ma anche turisti che vengono dall'estero perché interessati molto a questo tema, tant'è che abbiamo una richiesta comunque tutto l'anno, perché ovviamente non sanno che i nostri canali sono in funzione, quindi non si può accedere quotidianamente, ma solo in questo periodo dell'anno, però c'è una fortissima richiesta da parte dei turisti proprio tutto l'anno. Ecco, ci sono due tour quest'anno, separati da due luoghi diversi all'interno della nostra città in cui è possibile però vedere queste cose. Quali sono i due tour? Sì, ci sono due tour, allora il primo è il tour nei sotterrani del canale di Reno, che parte, è quello più tradizionale che è in centro storico e parte dal guazzatoio in via Augusto Righi, si fa un tratto a monte e quindi si va verso sotto via Indipendenza, via Falegnami, si va sotto piazzetta della Pioggia, fino ad arrivare all'avatoio di Palazzo Nudi. E questo è tutto diciamo nella parte sotterranea. Poi ci sarà invece un tratto a cielo aperto dove si riesce a passare sotto il ponte di via Malcontenti, il ponte dell'iconica finestrella di via Piella, fino ad arrivare al canale delle Moline, dove c'erano una volta gli antichi molini da grano. Questo è il tour principale appunto nel canale di Reno. Poi il secondo tour invece si chiama Porto Experience, che realizzeremo con la collaborazione di Succede Sola Bologna e qui si potrà visitare l'antica area dell'antico porto di Bologna che fu demolito nel 1934. Quindi questa è un'occasione unica perché si potrà fare una parte della visita nell'area del parco del Cavaticcio, però si potrà accedere nella parte sotterranea del canale del Cavaticcio e vedere i resti dell'antico porto. L'anno scorso vi siete incentrati su questo punto di vista anche della riscoperta e ci sono delle immagini attraverso una mostra nella vostra sede in fondo a Via della Grada che sono straordinari, in cui è possibile anche capire in questi 90 anni, 34-2024, come è stata la successione dell'evoluzione della città. Bologna aveva in centro un porto che era stato utilizzato per la Via della Seta, per tutto quello che era la storia, fin dal 600 di Bologna e che voi in certo modo cercate anche di riscoprire. Non è così? Sì, è proprio così. Le immagini sono iconiche, sono immagini storiche, immagini straordinarie, ma ti ricordi quando venne rubata la finestrella di Via Fiella? L'anno scorso siamo andati a vedere sia quando l'avete rubata ma anche quando l'avete ritrovata. Esatto, l'abbiamo ritrovata proprio lungo il canale, era stata proprio di velta e lanciata purtroppo nell'alveo del canale e quindi abbiamo dovuto insomma rimettere una nuova finestrella grazie anche all'aiuto di un falegname che l'ha fatto proprio a titolo gratuito per la città, quindi l'abbiamo inaugurata lo scorso dicembre, la nuova finestrella, speriamo per ora sta reggendo. Ecco, com'è possibile poter visitare, accedere, prenotarsi perché senz'altro occorre la prenotazione? Sì, occorre la prenotazione obbligatoria e ci sono due modalità, per il tour nei sotterranei del canale di Re non si può accedere nel nostro sito canaldibologna.it, c'è proprio una sezione dedicata a prenota visita, abbastanza semplice e prenotare e invece per Porto Experience bisogna andare direttamente sul sito di Succede solo a Bologna. La prenotazione appunto è obbligatoria e bisogna insomma stare anche a certe norme di sicurezza, daremo dei caschetti noi a disposizione per i visitatori, loro dovranno avere le calzature giuste, portarsi una torcia, sono dei siti non diciamo per i visitatori turisti, quindi per gli addetti ai lavori, per cui bisogna avere sempre un po' di... Perché c'è anche un po' di speleologia, no? Sì, un pochino sì. Crediamo che un po' di fascino perché si va sotto, la città si visita la parte invisibile di Bologna e quindi occorre anche avere uno spirito avventuroso. Sì, sì, un po' di avventura c'è, ma forse è anche quello il suo bello. Certo, il fascino. Una cosa particolare. Poi c'è anche un contest fotografico visto, no? Sì, quest'anno, un'altra novità di quest'anno è l'attivazione di questo contest fotografico che verrà lanciato sui nostri social e cerchiamo di stimolare i visitatori che verranno nei sotterrani a scattare delle foto e quelle più belle stiamo valutando di metterle in mostra l'Opificio delle Acque, come dicevi prima tu, che è il centro didattico documentale di Canali di Bologna, il quartier generale dei Canali, quindi speriamo di avere un buon riscontro dai visitatori che immortalino queste... Sì, non anche dei bravi fotografi. Esatto. Senti, ma le scuole vengono a visitarvi? Certo, le scuole... è da pochi anni che abbiamo dato la possibilità anche alle scuole di venire in visita a queste visite guidate speciali e uniche e da quest'anno abbiamo avuto tra l'altro una certa richiesta, quindi più passano gli anni più vediamo che anche le scuole hanno un certo interesse verso questi luoghi sconosciuti e inesplorati. Ecco, poi presto tornerà anche la mega turbina che diventerà peraltro anche una produttrice di elettricità, tornerà a avere il suo vecchio ruolo di turbina, anche dal punto estetico, diciamo così, dalle parti del porto di Bologna e poi produrrà anche energia elettrica e sostanzialmente sarà quando tornerà un mastodonte tecnologico incredibile che torna nel suo alve originale e questo sicuramente sarà un motivo per tornare a parlare dei Canali di Bologna. E poi tutto, Silvia, parte da Casalecchio, dalla chiusa, perché l'origine è sostanzialmente quello, no? Esatto, sì, tutto parte da lì, perché c'è il fiume Reno, che attraverso il fiume Reno viene derivata l'acqua nel canale, che poi è il canale di Reno, è quello che poi si vede scorrere appunto a partire dalla chiusa di Casalecchio, fa tutto un lungo percorso lungo la pista ciclopedonale di Casalecchio e passa attraverso i vari paraporti fino ad arrivare anche al ponte della Certosa e poi in via della Grada e poi si vede in via Rivareno e ad arrivare fino appunto agli affacci di cui parlavamo prima, di Malcontenti, Piaella, fino ad arrivare poi all'origine del canale Navile. Quindi l'acqua che diciamo viene derivata dalla chiusa di Casalecchio è poi quella che è la stessa che vediamo scorrere lungo tutto questo percorso del canale di Reno fino ad arrivare al Navile. Ecco, e non troppo lontano da voi, ora è stato anche scoperchiato per il tram e quindi quella parte lì sarà visibile e diventa anche una parte affascinante. So che molti bolognesi non tutti, anzi una parte, non apprezzano i lavori che ci sono adesso in corso, ma per cambiare la città occorre lavorare e per lavorare qualche disagio c'è e pertanto bisogna sopportare, però poi la parte positiva è che poi verrà vista quella parte lì e diventerà sicuramente un'attrazione turistica ma anche per gli stessi bolognesi che potranno andare a fare le compere in centro e magari vedere scorrere l'acqua. Sì esatto, verrà riaperto un piccolo tratto del canale di Reno che adesso è coperto e per chi non lo sa è il tratto che parte dalla chiesa di Santa Maria della Visitazione fino alla rotonda Tarozzica, la rotonda di Palazzo Azzarita, ci saranno quindi questi circa 200 metri a cielo aperto dove appunto finalmente anche tutti i cittadini e turisti avranno la consapevolezza del fatto che esiste un reticolo che passa sotto i nostri piedi, quindi sarà una buona occasione per tutti per riscoprire e rivalorizzare i canali della città. Infatti il Comune di Bonia fece anche un rendering che adesso penso sia difficile da recuperare in cui c'era però la parte del tram con in mezzo il passaggio dell'acqua che arrivava fino dove avete la sede. Voi come idea, poi dopo il treno il tram farà un'altra deviazione, andrà da un'altra parte però tutto sommato siamo vicino all'opificio delle acque. Settiamo, com'è stata questa evoluzione, tu sei alcuni anni che lavori lì, da realtà, non dico semi sconosciuta ma sicuramente non in primo piano dal punto di vista turistico a una continua richiesta di accesso a queste idee, a queste situazioni. Com'è vissuto questa evoluzione? Sì, è stato un percorso un po' lento, all'inizio magari non si notava, non c'era questa grande richiesta da parte di Bologna nel scoprire questa realtà dei canali che magari erano più associati o a delle fogne o comunque a un qualcosa da nascondere. Poi nel tempo, grazie anche all'amministrazione comunale oppure vari interventi di risanamento, di bonifica dei canali e con delle piccole aperture. Eccolo guarda, questo è un, scusa se si interrompo, è il passaggio della linea rossa e da lì a poco si vede la zona, quella è la zona di cui si parlava, grazie alla regia che prontamente ha letto la nostra proposta. Eccolo qua, il canale che è stato riaperto e tra poco vedrà la luce con l'acqua che scorre, no Silvia? Sì, noi siamo molto contenti anche perché questo ci permetterà magari di realizzare dei tour che appunto partono dall'opificio delle acque, passando dal canale di Reno a cielo aperto fino ad arrivare al Guazzatoi, la finestrella e l'area del porto. Quindi ci saranno occasioni comunque per parlare della sua storia ma anche dell'attualità e del fatto che appunto i canali sono a servizio della comunità e della città. Certo, a parte il canale Ravone che è un canale che qualche problemino l'ha dato, però insomma sono state fatte anche dei lavori perché non lo possa più dare, no? Sì, il torrente Ravone non è di competenza nostra del Consorzio Canale di Bologna, ma è di competenza della Regione. Sono stati fatti comunque degli interventi e speriamo che non risucceda quello che è successo in passato. Sicuramente da parte nostra quando succedono questi eventi diciamo un po' catastrofici, noi possiamo essere in supporto alla città togliendo l'acqua dai canali per poter accogliere tutti questi eccessi dei ricollinari e delle forniture circostanti, quindi in quel momento i canali possono essere d'aiuto come polmone e valvole di sfogo per tutti questi eccessi d'acqua, quindi se si dovesse ripetere siamo pronti e sappiamo come dobbiamo agire. Delle casse di espansione piccole per poter accogliere l'acqua in eccesso. Esatto, infatti molti ci chiedono ma come mai quando c'è una piena o piove i canali sono vuoti? Il motivo è proprio questo, per poter accogliere tutti gli eccessi. E ad assorbire gli eccessi. Esatto, sì. Bene, io ringrazio molto Silvia Gianni, responsabile comunicazione di Canale di Bologna, perché abbiamo fatto un viaggio sopra e sotto la città, abbiamo usato un piccolo nautilus, no? Siamo andati sopra e sotto la notizia in questo caso e vi ricordo che tutto comincerà il 17 di ottobre, no? Fra nove giorni. Esatto, dal 17 di ottobre fino al 3 novembre. La doppia possibilità. C'è modo sul sito di potersi iscrivere, di prenotarsi, il costo esigua, le famiglie sicuramente avranno modo di trovare una grande opportunità, io ti ringrazio ancora e diamo la linea alla regia, continua la nostra programmazione mattutina e alle 13, avete sito prima anche da nostra collega Alice Loretti, i temi oggi sono caldi e stringenti, quindi l'appuntamento con la prossima finestra di informazione alle 13 in diretta, grazie Alessio Bellodi in regia e ora lascio la linea appunto alla rete. L'opportunità per l'economia emiliano-romagnola, ma non solo, l'economia nazionale con la fiera di Bologna, il SAIE che comincia oggi. Invece noi andiamo nei sotterranei di Bologna con Silvia Gianni che ho già presentato, Silvia quanto è affascinante conoscere Bologna attraverso i canali che spesso sono interrati? Sicuramente è molto affascinante perché vedere Bologna da sotto dà una visione di Bologna insolita, misteriosa, quindi è una grande opportunità per esplorare una Bologna inedita e anche per me che sono spesso nei sotterranei dei canali è sempre una sorpresa attraversarli da sotto. Ecco, spieghiamo perché è possibile farlo in questo periodo, nella seconda metà di ottobre. Allora, questo è possibile perché, come di consuetudine, il Consorzio Canali di Bologna nella seconda metà di ottobre ogni anno praticamente mette in secca i canali, cioè toglie l'alimentazione e dello scorrere dei canali e questo appunto ci permette di portare delle persone in visita nei canali sotterranei. Questa secca è utile a noi per avviare dei lavori di manutenzione, per fare delle ispezioni e controllare e monitorare lo stato di salute delle infrastrutture idrauliche e della città e quindi è un momento dedicato sia a una funzione appunto più della manutenzione ma anche appunto per valorizzare i canali cittadini e questo appunto è il momento che di solito è l'unico momento in cui è possibile accompagnare i turisti bolognesi lungo l'alvio del canale di Reno. Infatti questo ti volevo chiedere, stavo facendo vedere alcune immagini anche dei canali, delle delle aree che avete anche negli anni passati, noi ci siamo interessati spesso negli anni passati giusto ieri c'era la conferenza stampa di presentazione, eravamo presenti, il nostro servizio è andato nel telegiornale. Ecco, chi sono, quali sono le famiglie, le persone che vengono a visitare la Bologna sotterranea misteriosa dell'acqua perché di questo si tratta? C'è un target di pubblico abbastanza ampio, solitamente ci sono giovani o famiglie con i bambini infatti da quest'anno c'è la novità che possono accedere anche i bambini che hanno compiuto i nove anni, dai nove anni in su, invece l'anno scorso era dagli undici quindi siamo andati un po' più incontro alle famiglie e quindi c'è un pubblico abbastanza vasto da partire dai più giovani, da famiglie ma anche da persone più adulte che comunque sono interessate a scoprire questo lato inedito della città. Oltre ai bolognesi comunque c'è un forte interesse anche da parte degli altri turisti che vengono anche da tutta la regione Emilia-Romagna ma anche turisti che vengono dall'estero perché interessati molto a questo tema tant'è che abbiamo una richiesta comunque tutto l'anno perché ovviamente non sanno che i nostri canali sono in funzione quindi non si può accedere quotidianamente ma sono in questo periodo dell'anno però c'è una fortissima richiesta da parte dei turisti proprio tutto l'anno. Ecco ci sono due tour quest'anno separati da due luoghi diversi all'interno della nostra città in cui è possibile però vedere queste cose. Quali sono i due tour? Sì ci sono due tour, allora il primo è il tour nei sotterrani del canale di Reno che parte quello più tradizionale che è in centro storico e parte dal guazzatoio in via Augusto Righi si fa un tratto a monte e quindi si va verso sotto via indipendenza via falegnami si va sotto piazza piazzetta della pioggia fino ad arrivare al lavatoio di palazzo non nudi e questo è tutto diciamo nella parte sotterranea. Poi ci sarà invece un tratto a cielo aperto dove si riesce a passare sotto il ponte di via Malcontenti, il ponte dell'iconica finestrella di Via Piella fino ad arrivare al canale delle moline dove c'erano una volta gli antichi molini da grano. Questo è il tour principale appunto nel canale di Reno. Poi il secondo tour invece si chiama Porto Experience che realizzeremo con la collaborazione di Succede solo a Bologna e qui si potrà visitare l'antica area dell'antico porto di Bologna che fu demolito nel 1934. Certo. Quindi questa è un'occasione unica perché si potrà fare una parte della visita nell'area del parco del Cavaticcio però si potrà accedere nella parte sotterranea del canale del Cavaticcio e vedere i resti dell'antico porto. L'anno scorso vi siete incentrati su questo dal punto di vista anche della riscoperta e ci sono delle immagini attraverso una mostra nella vostra sede in fondo a Via della Grada che sono straordinarie in cui è possibile anche capire in questi 90 anni, 34-2024, come è stata la successione dell'evoluzione della città. Bologna aveva in centro un porto che era stato utilizzato per la Via della Seta, per tutto quello che era la storia, fin dal 600 di Bologna e che voi in certo modo cercate anche di riscoprire. Non è così? Sì, è proprio così. Le immagini sono iconiche, sono immagini storiche, immagini straordinarie, ma ti ricordi quando venne rubata la finestrella di Via Piela? L'anno scorso siamo andati a vedere sia quando l'ha rubata ma anche quando l'avete ritrovata. Esatto, l'abbiamo ritrovata proprio lungo il canale, era stata proprio di velta e lanciata purtroppo nell'alveo del canale e quindi abbiamo dovuto insomma rimettere una nuova finestrella grazie anche all'aiuto di un falegname che l'ha fatto proprio a titolo gratuito per la città, quindi l'abbiamo inaugurata lo scorso dicembre, la nuova finestrella, speriamo per ora sta reggendo. Ecco, com'è possibile poter visitare, accedere, prenotarsi perché senz'altro occorre la prenotazione? Sì, occorre la prenotazione obbligatoria e ci sono due modalità, per il tour nei sotterranei del canale di Reno si può accedere nel nostro sito canaldibologna.it, c'è proprio una sezione dedicata a prenota visita, abbastanza semplice è prenotare e invece per Porto Experience bisogna andare direttamente sul sito di Succede Solo a Bologna. La prenotazione appunto è obbligatoria e bisogna insomma stare anche a certe norme di sicurezza, daremo dei caschetti noi a disposizione per i visitatori, loro dovranno avere le calzature giuste, portarsi una torcia, sono dei siti non diciamo per i visitatori turisti, quindi per gli addetti ai lavori, per cui bisogna avere sempre un po' di... Perché c'è anche un po' di speleologia, no? Sì, un pochino sì. Creiamo anche un po' di fascino perché si va sotto, la città si visita, la parte invisibile di Bologna e quindi occorre anche avere un spirito avventuroso, no? Sì, sì, un po' di avventura c'è, ma forse è anche quello il suo bello. Certo, il fascino. Poi c'è anche un contest fotografico, ho visto, no? Sì, quest'anno, un'altra novità di quest'anno è l'attivazione di questo contest fotografico che verrà lanciato sui nostri social e cerchiamo di stimolare i visitatori che verranno nei sotterrani a scattare delle foto e quelle più belle stiamo valutando di metterle in mostra all'Opificio delle Acque, come dicevi prima tu, che è il centro didattico documentale di Canali di Bologna, il quartier generale dei Canali, quindi speriamo di avere un buon riscontro dai visitatori che immortalino queste... Siano anche dei bravi fotografi. Esatto. Senti, ma le scuole vengono a visitarvi? Certo, le scuole... è da pochi anni che abbiamo dato la possibilità anche alle scuole di venire in visita a queste visite guidate speciali, uniche e da quest'anno abbiamo avuto tra l'altro una certa richiesta, quindi più passano gli anni più vediamo che anche le scuole hanno un certo interesse verso questi luoghi sconosciuti e inesplorati. Ecco, poi presto tornerà anche la mega turbina che diventerà peraltro anche una produttrice di elettricità, tornerà a avere il suo vecchio ruolo di turbina, anche dal punto estetico diciamo così, dalle parti del porto di Bologna e poi produrrà anche energia elettrica e sostanzialmente sarà quando tornerà un mastodonte tecnologico incredibile che torna nel suo alve originale e questo sicuramente sarà un motivo per tornare a parlare dei canali di Bologna. E poi tutto, Silvia, parte da Casalecchio, dalla chiusa, perché l'origine è sostanzialmente quello, no? Esatto, sì, tutto parte da lì, perché c'è il fiume Reno che attraverso il fiume Reno viene derivata l'acqua nel canale, che poi è il canale di Reno, è quello che poi si vede scorrere appunto a partire dalla chiusa di Casalecchio, fa tutto un lungo percorso lungo la pista ciclopedonale di Casalecchio e passa attraverso i vari paraporti fino ad arrivare anche al ponte della Certosa e poi in via della Grada e poi si vede in via Rivareno e ad arrivare fino appunto agli affacci di cui parlavamo prima, di Malcontenti, Piaella, fino ad arrivare poi all'origine del canale Navile, quindi l'acqua che diciamo viene derivata dalla chiusa di Casalecchio e poi quella che è la stessa che vediamo scorrere lungo tutto questo percorso del canale di Reno fino ad arrivare al Navile. Ecco, e non troppo lontano da voi, ora è stato anche scoperchiato per il tram, e quindi quella parte lì sarà visibile e diventa anche una parte affascinante, so che molti bolognesi, non tutti, anzi, una parte, non apprezzano i lavori che ci sono adesso in corso, ma per cambiare la città occorre lavorare e per lavorare qualche disagio c'è e pertanto bisogna sopportare, però poi la parte positiva è che poi verrà vista quella parte lì e diventerà sicuramente un'attrazione turistica, ma anche per gli stessi bolognesi che potranno andare a fare le compere in centro e magari vedere scorrere l'acqua. Sì, esatto, verrà riaperto un piccolo tratto del canale di Reno che adesso è coperto e per chi non lo sa è il tratto che parte dalla Chiesa di Santa Maria della Visitazione fino alla Rotonda Tarozzi, che è la rotonda di Palazzo Azzarita, ci saranno quindi questi circa 200 metri a cielo aperto dove appunto finalmente anche tutti i cittadini e turisti avranno la consapevolezza del fatto che esiste un reticolo che passa sotto i nostri piedi, quindi sarà una buona occasione per tutti per riscoprire e rivalorizzare i canali della città. Infatti il Comune di Bologna fece anche un rendering che adesso penso sia difficile recuperare, in cui c'era però la parte del tram con in mezzo il passaggio dell'acqua che arrivava fino dove avete la sede, voi come idea, poi dopo il treno il tram farà un'altra deviazione, andrà da un'altra parte, però tutto sommato siamo vicino all'opificio delle acque. Settiamo, com'è stata questa evoluzione, tu sei da alcuni anni che lavori lì, da realtà, non dico semi sconosciuta, ma sicuramente non in primo piano dal punto di vista turistico, a una continua richiesta di accesso a queste idee, a queste situazioni. Sì, è stato un percorso un po' lento, all'inizio magari non si notava, non c'era questa grande richiesta da parte di Bologna nel scoprire questa realtà dei canali che magari erano più associati o a delle fogne o comunque a un qualcosa da nascondere. Poi nel tempo, o grazie anche all'amministrazione comunale, oppure vari interventi di risanamento, di bonifica dei canali e con delle piccole aperture. Eccolo, guarda, questo è un, scusa se ti interrompo, è il passaggio della linea rossa e da lì a poco si vede la zona, quella è la zona di cui si parlava. È proprio quella. Grazie alla regia che prontamente ha letto la nostra proposta. Eccolo qua, il canale che è stato riaperto e tra poco vedrà la luce con l'acqua che scorre, no Silvia? Sì, noi siamo molto contenti anche perché questo ci permetterà magari di realizzare dei tour che appunto partono dall'opificio delle acque, passando dal canale di Reno a cielo aperto fino ad arrivare al Guazzatoi, la finestrella e l'area del porto. Quindi ci saranno occasioni comunque per parlare della sua storia, ma anche dell'attualità e del fatto che appunto i canali sono a servizio della comunità e della città. Certo, a parte il canale Ravone che è un canale che qualche problemino l'ha dato però insomma sono stati fatti anche dei lavori perché non lo possa più dare, no? Sì, il torrente Ravone non è di competenza nostra del consorzio canale di Bologna ma è di competenza della regione, sono stati fatti comunque degli interventi e speriamo che non risucceda quello che è successo in passato. Sicuramente da parte nostra quando succedono questi eventi diciamo un po' catastrofici sì, alluvionali noi possiamo essere in supporto alla città togliendo l'acqua dai canali per poter accogliere tutti questi eccessi dei ricollinari e delle forniture circostanti quindi in quel momento i canali possono essere d'aiuto come polmone, valvole di sfogo per tutti questi eccessi d'acqua. Quindi se si dovesse ripetere siamo pronti e sappiamo come dobbiamo agire. Delle casse di espansione piccole per poter accogliere l'acqua in eccesso. Esatto, infatti molti ci chiedono ma come mai quando c'è una piena o piove i canali sono vuoti. Il motivo è proprio questo per poter accogliere tutti gli eccessi. E da assorbire gli eccessi. Esatto, sì. Bene, io ringrazio molto Silvia Gianni, responsabile comunicazione di Canale di Bologna perché abbiamo fatto un viaggio sopra e sotto la città abbiamo usato un piccolo nautilus, no? Siamo andati sopra e sotto la notizia in questo caso e vi ricordo che tutto comincerà il 17 di ottobre, no? Fra nove giorni, otto giorni. Esatto, dal 17 di ottobre fino al 3 novembre. La doppia possibilità. C'è modo sul sito di potersi iscrivere, di prenotarsi, il costo esigua le famiglie sicuramente avranno modo di trovare una grande opportunità io te ringrazio ancora e diamo la linea alla regia continua la nostra programmazione mattutina e alle 13 avete sito prima anche da nostra collega Alice Loreti i temi oggi sono caldi e stringenti quindi l'appuntamento con la prossima finestra di informazione alle 13 in diretta grazie Alessio Bellodi in regia e ora lascio la linea appunto alla rete. grazie a tutti Grazie a tutti.